Il progetto numero 9 per la città di noi è rappresentato da Vialasca, di interattazione e nasce dall'esigenza di riqualificare il parco giochi, il parco laschese che è in via di Amicis. Il parco è già dotato di due strutture sportive che sono un campo da basket e un campo da tennis che ormai sono poco utilizzate. L'obiettivo è quello di rimettere in funzione queste due strutture e aggiungere una pista per biciclette e bambini e skate e una pista per bocce insieme a un'area cani per gli amici 4 zampo. Conclude il progetto anche l'inserimento di un punto acqua che in questo momento è assente dalla zona. Grazie. Grazie.